iniziamo un nuovo tutorial a proposito dell'antivirus Avast Avast è un prodotto che viene distribuito in due diverse licenze il cosiddetto Avast Home Edition è quello disponibile con licenza freeware è quindi gratuito, mentre l'altro software Avast Professional è con licenza commerciale quindi a pagamento, il sito da cui possiamo scaricare il programma, quello gratuito Home Edition è appunto questo www.avast.com vado a cliccare su vai oppure premo invio per visitare questa pagina ecco che si sta caricando ci metto un po' più del solito eccoci pronti quindi come vedete la pagina del sito mostra varie informazioni un po' su tutti i prodotti che questa azienda propone come vi dicevo c'è la distinzione tra Avast Home e Avast Professional la versione professional è quella a pagamento quindi più completa la versione home è quella gratuita che vogliamo scaricare ma vi assicuro che pur essendo un software freeware, un software gratuito è già più che sufficiente per una protezione base del nostro computer andiamo a cliccare quindi sopra nella parte iniziale del sito la voce download, sapete che download vuol dire scaricamento apparirà una nuova pagina dove ci da 4 opzioni a noi interessa scaricare un programma quindi cliccheremo l'opzione download programmi si carica ancora una nuova pagina c'è l'elenco dei software che si possono scaricare c'è anche Avast Professional ma è evidente che scaricando questa versione non sarà una versione completa soprattutto è limitata nel tempo di utilizzo mentre come vedete per Avast Home c'è appunto la parola download gratuito e quindi una maggiore conferma di quello che vi dicevo cioè della possibilità di usare gratuitamente questo software vado quindi a cliccare Avast Home Edition download gratuito si apre un'altra pagina ed è la pagina appunto del download di Avast 4 4 è la versione del software Home Edition più in basso c'è questo grosso bottone che dice download che però vi sconsiglio di utilizzare in quanto si tratta del bottone di download della versione in inglese che a noi ovviamente non interessa mentre dice per le altre lingue utilizzare la tabella qui sotto quindi scorro verso il basso e cercherò l'italiano eccolo quindi devo cliccare download in corrispondenza della voce italiano quindi Avast Home versione in italiano vado a cliccare download parte una finestra di salvataggio di scaricamento Windows in pratica mi sta chiedendo dove voglio salvare questo file io cliccherò salva e appunto in questa finestra devo scegliere una cartella a mio piacimento dove salvare ora per esempio potrei decidere di salvare questo file nel disco locale di due punti quindi lo vado a selezionare e poi vado a cliccare salva facendo partire il salvataggio ecco come vedete mi viene indicato poi il tempo residuo di scaricamento qui in realtà non devo fare altro che attendere ora interremperò la registrazione per riprenderla a download terminato bene riprendiamo la registrazione nel momento in cui il download è finalmente completato è arrivato al 100% quindi possiamo chiudere sia questa finestra sia quella dell'internet explorer per andare a ripescare da risorse del computer e quindi dal disco locale di due punti dove avevamo salvato il file in questione quindi apro il risorse del computer ecco qui mi posiziono in disco locale di due punti doppio clic e in mezzo a tante altre cose ecco qui dovrebbe esserci il file setup.ita.exe poi nella descrizione c'è scritto Alwil software perché Alwil è l'azienda che produce Avast quindi devo fare un doppio clic su questo file perché parta l'installazione del programma quindi doppio clic ecco come vedete Windows essendo un file con estensione exe quindi potenzialmente pericoloso ed essendo un file scaricato da internet ci chiede l'autorizzazione di eseguirlo noi sappiamo di aver scaricato questo file da un sito attendibile e quindi di cui ci si può fidare che non ci siano virus o spyware e quindi cliccheremo la conferma su esegui sta partendo l'installazione di Avast intanto questa finestra la posso anche chiudere ecco qua setup di Avast quindi benvenuto nel programma di setup e setup pool di installazione quindi clicco su avanti in pratica in queste finestre non devo fare altro che cliccare sempre avanti accettare il contratto di licenza l'accordo di licenza che c'è sempre in tutti i programmi anche in quelli freeware ed open source clicco sempre su avanti qui mi chiede in quale cartella voglio installare Avast e di solito io consiglio di lasciare invariata questa quindi senza cambiare nulla clicco avanti come vedete non sto facendo niente di particolare clicco sempre avanti ancora avanti anche qui e ancora avanti e adesso parte il vero e proprio processo di installazione dobbiamo attendere qualche istante tra un attimo ci verranno poste due domande la prima ci chiederà se vogliamo fare una scansione antivirus al prossimo riavvio della macchina qualora fossimo nel dubbio insomma di aver preso qualche infezione ovviamente se il computer è nuovo oppure se c'era già un altro antivirus installato prima insomma se siamo certi in qualche modo che non ci siano questi problemi di virus e di infezioni possiamo anche rispondere di no a quella domanda che ci apparirà ora tra un attimo dovrebbe comparire l'altra domanda invece che ci verrà chiesta alla fine del processo è quella di riavviare ecco qui ci dice appunto vuoi impostare un controllo antivirus degli hard disk al riavvio del sistema cioè ci chiede al prossimo riavvio che avverrà tra pochi istanti vuoi che io controlli intanto questa è un'altra cosa vuoi che io controlli se ci sono dei virus noi se rispondiamo di sì dobbiamo sapere che il prossimo riavvio sarà piuttosto lento ci potrebbe mettere anche una o due ore perché prima di avviare il computer dovrà controllare tutti gli hard disk quindi nel nostro caso rispondiamo tranquillamente di no la domanda successiva appunto come vi dicevo ci chiede se vogliamo riavviare il computer in questo momento oppure riavviare più tardi noi quindi sceglieremo di riavviare ora il computer per farlo basterà cliccare fine vi volevo dire appunto che dopo il riavvio ci sarà ancora da completare l'installazione Avast ci porrà altre domande ci saranno ancora altre procedure la più importante delle quali è la registrazione ma ve ne parlo tra un istante ora interrompo la registrazione e la riprenderò immediatamente dopo il riavvio del computer finalmente il computer si è riavviato e al riavvio automaticamente senza che io abbia dato alcun comando appare questa finestra benvenuti in Avast Home Edition ovviamente questo accade solo al primo riavvio dopo l'installazione qui c'è scritto che bisogna registrarsi ossia se non ci registriamo per quanto il software sia gratuito non durerà per più di 60 giorni mi spiego quindi il software Avast non funziona per più di 60 giorni a meno che noi non ci registriamo qui invece ci spiega che il processo di registrazione richiederà solo pochi minuti quindi è una cosa che non ci costa niente e appena fatto riceverete la vostra licenza personale valida per 14 mesi quindi dopo aver registrato la durata del software vale 14 mesi poi dice che naturalmente dopo questo periodo di 14 mesi ci si potrà nuovamente registrare per ottenere un nuovo codice che valga per altri 14 mesi quindi in sostanza il programma non ha un limite di tempo è solo che ogni 14 mesi siamo costretti a registrarsi in realtà la registrazione consiste solo nell'obbligo di dare un indirizzo di posta elettronica e come farò io adesso in realtà possiamo anche usare un indirizzo di posta elettronica creato appositamente per questa occasione quindi evitando di dare magari l'indirizzo di posta che utilizziamo normalmente per lavorare e quindi per evitare di avere poi email di pubblicità indesiderate per come crearsi un indirizzo di posta gratuito potete guardare l'altro tutorial sempre sul mio sito www.infocorsi.it il tutorial è relativo a gmail e quindi appunto a come crearsi un email gratuita detto questo quindi cominciamo con la registrazione di Avast è molto semplice bisogna assicurarsi che la connessione ad internet sia attiva che sia aperta la DSL e poi vado a cliccare su pagina di registrazione di Avast Home cliccando qui automaticamente verò reindirizzato sulla pagina del sito di Avast che mi permette appunto di registrarmi ora bisogna attendere qualche istante perché si apre la pagina c'è un attimo di attesa in più del solito ed ecco che appare benissimo questa è la pagina appunto della registrazione di Avast quindi va fatto dopo l'installazione qui cliccherò dove dice sono un nuovo utente e ho bisogno della chiave di licenza quindi clicco qui lui mi porta in un modulo da compilare dove devo scrivere qual è il mio indirizzo di posta elettronica io lo vado a scrivere qui dentro e come vi dicevo vado ad utilizzare un indirizzo di posta in realtà con dei dati non veri dei dati inventati perché non voglio dare il mio indirizzo di posta elettronica normale quello che utilizzo per lavorare altrimenti poi rischierei di ricevere molta email indesiderata molto spam come appunto si chiama cioè quella posta pubblicitaria indesiderata finisco di scrivere il mio indirizzo chiocciola gmail.com benissimo quindi ho scritto due volte perché Avast mi chiede di scriverlo due volte in quanto vuole verificare che non ci siano errori di battitura e questo capita anche in altri siti poi devo scrivere il mio nome anche qua scrivo un nome in realtà inventato città e indirizzo non sono obbligatori lo noto dal fatto che non sono in grassetto quindi non li scrivo affatto Stato Italia devo mettere obbligatoriamente il segno di spunta su questa casella e in basso poi c'è il solito codice di sicurezza da ricopiare come accade su molti siti e quindi io lo vado a ricopiare così com'è per poi cliccare registra ecco cliccando registra ora ci verrà dato un messaggio che ci avvisa che nella nostra casella di posta elettronica è stato inviato automaticamente dal sito di Avast un messaggio contenente il codice di attivazione del programma quindi qui dice la vostra registrazione è stata trasmessa ad Allul Software se l'indirizzo di email inserito è corretto nel nostro caso lo è dovreste ricevere in pochi minuti un'email con la chiave di attivazione quindi non ci resta che andare a controllare l'email io ho inserito un'email creata su Gmail quindi vado sul sito ho sbagliato a scrivere ovviamente termino correggiamo Gmail ecco qui bisogna stare molto attenti a non sbagliare gli indirizzi altrimenti si rischia di finire su siti tutt'altro che che belli da vedere eccoci quindi su Gmail devo scrivere il mio nome utente e la mia password non mettiamo mai questo segno di spunta per evitare che altre persone che poi usano il mio stesso computer possano leggere la mia posta vado a cliccare su accedi do tutte le conferme si sta caricando il mio indirizzo di posta ed ecco qua questa email il cui oggetto è il cui oggetto è Avast Registration e il cui mittente è Register se la vado a cliccare contiene il codice di attivazione che mi serve ecco qui qui c'è scritto tutto un messaggio piuttosto lungo ma quello che a me interessa è questo codice di attivazione quindi lo vado ad evidenziare con il mouse e lo copio faccio tasto destro copia va bene per evitare di doverlo ricopiare a mano lo copio con il tasto destro a questo punto qui posso chiudere chiudo la X e quindi siamo appunto di nuovo nella finestra di prima dove cliccherò ok cliccando ok in realtà sta partendo Avast ora sposto un attimo la visuale della registrazione per farvelo vedere ecco qui in basso sulla barra delle applicazioni appaiono queste due icone queste due palline blu io vado a chiudere queste X ecco qui ne esce un'altra la chiudo anche lei e poi che cosa faccio clicco con il destro sulla pallina che ha la A di Avast appunto clicco con il destro e clicco il comando riguardo Avast una volta cliccato questo appare questa finestrella ecco la porto al centro dell'area dove devo cliccare il tasto licenza che mi permetterà di inserire quel codice di attivazione ottenuto tramite la registrazione quindi clicco licenza esce questa finestrella e qui vado a cliccare con il destro ed in collo perché avevo copiato se non avessi fatto copia e in colla avrei dovuto stampare la pagina e poi scrivere manualmente il codice qui dentro che comunque andava bene ma mi avrebbe fatto perdere più tempo fatto questo clicco ok e lui mi dice che il codice di licenza è stato inserito correttamente mi dice grazie e quindi d'ora in poi Avast funzionerà correttamente e con tutte le sue funzionalità per 14 mesi tra 14 mesi mi verrà automaticamente chiesto dal programma di rieffettuare la registrazione e io ripeterò la stessa procedura a questo punto interrompiamo un attimo la registrazione la riprendo tra un attimo mostrandovi alcune funzionalità di Avast bene in quest'ultima parte della guida vorrei mostrarvi alcune funzionalità di Avast partendo dal presupposto che una volta installato il programma un po' come tutti gli antivirus di una buona qualità ha sempre un suo modulo che funziona in background ed è questa pallina con la A che vediamo sotto in pratica a volte vedrete quella pallina girare sono i momenti in cui Avast sta effettuando automaticamente in background in sottofondo senza che noi ce ne accorgiamo dei controlli sulle attività che svolgiamo questo lo fa grazie ai cosiddetti provider quindi se vado a cliccare con il destro su questa pallina per poi venire su la voce Arresta Provider mi fa l'elenco dei provider in funzione ovviamente è meglio che non ne clicchi nessuno altrimenti si arresterebbe perché il comando è Arresta Provider invece devono essere tutti in funzione ognuno di questi sette si occupa di controllare una delle tante critiche funzionalità del nostro Windows e quindi per esempio c'è un provider che controlla la posta elettronica che è uno dei veicoli di infezione maggiori poi c'è il provider della messaggistica istantanea cioè di quei programmi che come le MSN Messenger ci permettono di chattare ma a volte ci fanno anche arrivare dei virus e quindi Avast controlla anche quello c'è una protezione di rete che è utile quando per esempio in ufficio o in casa abbiamo più computer collegati in rete tra di loro Avast controlla anche che i virus non si propaghino tra questi computer collegati tra di loro in rete locale il provider Outlook Exchange è un'ulteriore protezione sulla posta elettronica ma che nella maggior parte dei computer normali non è necessaria non è utile poi invece c'è la protezione peer-to-peer che è molto importante si riferisce a quei programmi come le Mule o come ad esempio il Kazaa cioè quei programmi che mi permettono di condividere musica scaricare musica da internet scaricare filmati condividendoli con altri utenti peer-to-peer appunto e spesso si beccano virus anche di lì e quindi Avast controlla anche questo c'è la protezione standard che forse è quella più importante c'è quella che controlla ogni singolo file che vado ad aprire sul mio computer infatti vedrete ogni volta che aprite un file vedrete la pallina di Avast sotto girare perché sta controllando che il file non sia infetto ed infine la protezione web cioè quella che è in funzione nel momento in cui navigando con l'internet explorer o con qualsiasi altro browser potremmo incontrare dei siti pericolosi quindi ad eccezione di questo gli altri 6 sono tutti molto utili in tutti i computer ecco a questo punto andiamo a vedere però che cosa succede nel momento in cui dovessimo avere il dubbio che una particolare cartella sul nostro computer possa contenere un virus o anche un particolare floppy disk una particolare pennetta per esempio ora se io in c2 punti ho una cartella a rischio supponiamo che si tratti di questa cartella di nome archivio temo che possa contenere dei virus magari prima di aprirla con il tasto destro e con la voce controllo archivio come vedete in pratica c'è l'icona della pallina di avast la parola controllo e poi il nome dell'oggetto su cui ho cliccato in questo caso archivio e la cartella quindi io cliccando controllo archivio avrò il controllo automatico in pratica vi faccio un attimo vedere quello che succede magari prendo un'altra cartella un po' più grossa in maniera tale che il controllo duri di più altrimenti non si nota faccio controllo programmi ad esempio appare questa finestra ve la porto in visuale che come vedete sta controllando tutto il contenuto della cartella programmi nel momento in cui questa finestrella dovesse sparire senza dare alcun messaggio vuol dire che quella cartella non contiene alcun virus non contiene alcuna minaccia se invece dovessero apparire dei messaggi d'allarme che avvisano della presenza di virus lì dovrete seguire poi le istruzioni che il programma stesso vi darà in questo caso vado a cliccare annulla per evitare di perdere tempo infine può capitare di voler fare una scansione dell'intero computer a quel punto devo aprire Avast dall'icona che ho sul desktop che si è creata automaticamente durante l'installazione lo apro con un doppio clic ecco che parte il cosiddetto test della memoria che dura un po' di tempo io in questo caso lo vado ecco vedete sta controllando tutti i programmi in memoria RAM in questo momento per vedere che non ci siano virus in questo caso io lo vado a fermare per non perdere tempo ma vi consiglio invece di lasciarlo andare perché controlli prima di controllare gli hard disk perché controlli la memoria RAM io ripeto lo vado a fermare per non perdere tempo quindi mi partirà la finestra di Avast attendiamo qualche istante ecco qui cambio nuovamente la posizione della nostra visuale per vedere meglio quello che sta accadendo è uscita inizialmente questa finestra ma è solo una finestra di istruzione la posso chiudere mentre la finestra del programma quella quindi più importante è questa qui che adesso vediamo dove noi per controllare l'intero computer dobbiamo innanzitutto cliccare questa icona a forma di hard disk cliccando la quale abbiamo selezionato la possibilità di controllare tutti gli hard disk presenti nel mio computer muovendo questo cursore verso destra vado a selezionare la scansione approfondita quindi quella che dura più tempo ma che è consigliabile fare e metto anche la spunta dove dice controlla file compressi in questa maniera io sto controllando tutti gli hard disk perché ho cliccato quest'icona li sto controllando in maniera approfondita perché ho trascinato questo cursore verso destra e sto controllando persino gli eventuali file compressi contenuti in questi hard disk facendo partire la cosa cliccando su questo pulsante di avvio che assomiglia al play di una radio parte la scansione che può durare anche due o tre ore a seconda della dimensione in gigabyte degli hard disk da controllare ora io andrò poi ad interrompere la registrazione ma qui lasciandola andare lui va a controllare cartella per cartella file per file tutto il mio computer tutto il contenuto dei miei hard disk e alla fine o meglio durante questo controllo eventuali virus trovati verranno messi in evidenza con un messaggio d'allarme e poi bisognerà seguire le istruzioni che Avast stesso ci darà ora vado con lo stop a fermare ma in realtà voi dovete far continuare questa cosa anche se dovesse durare alcune ore e quindi il tutorial finisce qui mi auguro che sia stato interessante continuate a rimanere sintonizzati su www.infocorsi.it perché ogni volta che ho il tempo di farlo inserirò degli articoli dei tutorial nuovi ed interessanti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti